Ebbene, ebbene signori, si va a provare Drag Dealer Simulator 2, che è scritto qui sotto di me, ma va bene, poi vediamo se spostare la camera da qualche parte, gioco che dovrebbe uscire in linea teorica quest'anno, quindi andiamolo a spippolare un pochino, senti qui, guarda l'illegalité, l'illegalité, vabbè, ma l'importante è che, con responsabilità, inserisci il nome, come si chiamava il nostro soggettone? Non lo sappiamo, lo chiamiamo Alfredo Ci sta Alfredo, consenti di partecipare? No, Alfredo è un solitario Tac E... no, erano cose... lascia fare E' quel taleale però, scusi Allora, ma scusa, se ho detto di chiamarlo Alfredo, poi mi dici di scegliere un altro di questi, allora non abbiamo fatto niente, scusate Allora, c'è Rick, Danny, Eddie, Sharon, Becky e Lisa Guarda, Danny solo perché c'ha il cappello da... Danny, ah, abbiamo però anche delle abilità, eh, agilità, visibilità Cioè se sgama subito Comforte swag, ma che cazzo Vabbè, noi lo scegliamo solo per il cappello E lo chiamiamo Alfredo Possiamo... no, lo possiamo personalizzare? Non disponibile nella versione demo, ci sta Grazie, topino dei denti, grazie per i 40, grazie mille Renove del cartello, cartello Alfredo, ci sta, eh Onesto Vai, vai Vensibilità non... benissimo Perché dovremmo essere invisibili Però... senti come pompa il sound Attenzione E... tra l'altro non credo ad oggi ci sia già una data... della release... della versione completa Però, bam, scopri cosa è successo nella... E... esploso tutto Sì Il nostro laboratorio... partiamo bene Vai Grande E... spegni l'incendio nel laboratorio Sì, le scritte sono un po' piccoline, però già che sono in italiano va bene Allora, ce l'abbiamo... l'estintore Attenzione Per poter usare uno strumento inserisce uno slot di accesso rapido che desideri e seleziona Una volta selezionato, usa il tasto d'azione predefinito dello strumento per utilizzare... Cazzo di casino Allora, sta su uno Vabbè, premi uno Ok Non partiamo benissimo, però Parla con Marcus Marcus, sei in coglione? Già stai a bruciatutto qua? Ancora non siamo partiti E... caps possiamo chiudere... Ah no, caps, ho sbagliato Caps... è quest'altro E... poi sì Un po' pappa anche Grazie Giulio il fotografo! Grazie per i 32! Grazie mille! Grazie mille! Eh, ma... Queste chicchette poi... Insomma, vedremo E... salve Sì, un po' piccolina Grazie per l'aiuto Mi esploso in faccia Eh, lo so Riesco a malapena a vedere la tua brutta faccia Ma fatta una... Abbiondo Ci sta Scusa, che diavolo è successo per sapere? Un esperimento è andato storto Pulirai, sì Dirigi al negozio sulla spiaggia Ellen ha un pacco per me Ecco, prendi questi soldi e dagli Ok, dobbiamo andare da Ellen Che c'è un pacco per il tipo Comunque Va bene Eh, naturalmente lui lavora al laboratorio È normale che c'ha dei tic Delle cose Delle problematiche Eh... Recupera il pacco per Marcus Va bene Allora, intanto Diamo un'occhiata Eh... Controlla il quadro elettrico Va bene Ma noi abbiamo tipo una torcia? No? Il quadro elettrico Attenzione Attenzione Se incontri aree buio Non riesci a vedere bene di notte Usa la torcia Nei negozi potrai acquistare Torce con caratteristiche diverse Ah no, con L si usa la torcia Io ero andato con F Va bene Quindi qua possiamo chiudere E tra l'altro abbiamo visto il nostro personaggio Queste sono le nostre statistiche Il cappellino però non ce l'ha dato Che era l'unica cosa per la quale noi avevamo scelto quest'uomo Però va bene E... Abbiamo il nostro telefono Inventario Mappa Attenzione Guarda qua Signori Eh? Cioè Drag dealer Uno era un quartierino Qua abbiamo praticamente un'arcipelago Una serie di isole Non male Ehm... Va bene Aspetta Cosa abbiamo nell'inventario? Dei contanti Uno zaino piccolo Dell'acqua Buste Di plastica E... Semi di indica Indica Va bene E... Questo è... Rosmarino eh Se chiedono qualcosa è rosmarino Ma posso uscire da qui? Sì Allora Si può? Oh Spegniamo la luce Dobbiamo andare da Dalla tipa al negozio La versione come vedete È la 0.11.7 Quindi... Vabbè Naturalmente versione... Demo Parcour con space Per agire Se scavalca recinzione O se è il parkour Con spazio Va bene Va bene Sarà fatto Isola Sombra Beh ricordi? Se lo dici tu Leggo un cazzo Il trono di... Eh lascia fare Ci sta E... Ok Il negozio sta lì Questo è l'ambiente di gioco Molto bene E... Non credo di poter scendere In questo modo C'è una stradina Un qualcosa Sì qua C'è una stradina Seguiamo la stradina La stradina Se va di là Vabbè Posso pure Piano piano È discesa No? Tanto ci dobbiamo Abituare poi a scappare Signori Quindi Insomma Non è... Non facciamo troppo Gli schizzinosi Fatemi sapere come va pure la live Se si blocca qualcosa O se... Se ce la facciamo Grazie Locri Grazie per i 19 Grazie mille per la resab Allora Salve Guarda qua gli isolani E questi hanno bisogno Di un supportino tattico Per forza È da farsi È da farsi Vedi pure questo qua Che sta a fa' qua sotto? Se sta a fumare le dita Questo figurate Eh per forza C'è bisogno di... Di un supporto Vedi Quello addirittura è arrivato A fumarsi le dita Eh quando arrivi a fumarti le dita Non va bene Va bene Eh grazie Givarte Grazie per i 46 Grazie mille Grazias Grazias Aia In bocca al lupo In bocca al lupo Un abbraccione Mi raccomando Daie Daie Tu non mollare Mi raccomando Spero che adesso sia Un po' meglio Eh sì Abbiamo i soldi Abbiamo i soldi Compra le pietre d'ambra Ok Ok anche per i cestini Fatti a mano Va bene Bocca al lupo Bocca al lupo Givarte Adios Mi raccomando Mi raccomando Eeeh Allora Negozio di articoli Isla Sombra Ospita negozi di vario tipo Con Offerte differenti Facendo acquisti Aumenterai la tua reputazione Nel negozio E salirei di livello Sbloccando un assortimento migliore I negozi Non solo vendono Ma a volte sono anche interessati Ad ottenere articoli di vario tipo Controllo e offerte Di acquisto Negozi Per Scoprire se riuscirai a guadagnare Un po' di soldi Allora Questo acquista i cestini Eeeh L'ambra Che non abbiamo Vende Acqua Birra Salsicce Sacchetto di plastica Bustine di plastica E biglietto dell'autobus Va bene Vabbè Non possiamo fare niente Eeeh 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 Ottimo Givarte Ottimo dai Mi raccomando Mi raccomando Bocca all'uvo Quindi li possiamo vendere L'ambra Dobbiamo tornare Eeeh Alla nostra base Per consegnare il pacco Però qui nella minimappa All'in basso che vedete In alto a destra Comunque non c'è niente Dove c'è la camera Eeeh Ci sono dei Segnalini Che però io Non vedo Dalla mappa Li vedo solamente Dalla Dalla bussola Lì sotto Voglio capire Se sono qualcosa Di Scusi Allora Tra quello Tra quello Che se fuma Le dita E questo Che martella L'aria Credo che qui Eeeh Insomma Di clienti Ne troviamo Eeeh Qui clienti Con la pala Vabbè Per Fatemi andare a vedere Quei segnalini Perché secondo me Sottivo le cose Questo è l'emosina Alla terra Dai al mendicante Ma il mendicante Ha appena comprato Dei vestiti nuovi Eeeh E' un mendicante E' un illusionista Eeeh Incredibile Quest'uomo Eeeh Avvisa Se ci bannano Perché se no Non Cioè per Basta Adesso rimetti I vestiti Non li rimetti E' successo Un macello Come i vestiti Credo Vabbè Arrivederla eh E' stato Un piacere Comunque Un guardaroba Più fornito Del nostro Quindi non mi sembra Il caso Che faccia L'elemosina Proprio lui Che ha Più vestiti Di noi Tra l'altro E tutti insieme Eeeh Sì penso che E' questa L'ambra Bravissimo Quindi c'è la segna Trovate raccogli L'ambra Sì era Il segnalino L'ambra Ok quindi possiamo Vendi l'ambra Ad elen Attivo Eeeh Andiamo a raccogliere L'altra ambra Signori Sono comunque soldi Cre Salve Scusi Lei è quello Di prima Che ha fatto La magia O No per sapere Per sapere Perché al giorno D'oggi Allora Altra ambra Me la segna Da steva Però siccome Pure là Non era Pre Ehi Non era Preciso Sipsabim No Non so se magari sta Vabbè qua mi segna Credo questa Per vendere L'ambra Però Scusa qua C'era un sacco Madonna mia Oppela C'era un sacco Di palli Ma pure questo Prima stava vestito Diverso Mi ricordo che aveva Delle scarpe Rosse Non credo Avesse il cappello Ma Cioè il lavoro Era Il lavoro Era lo stesso Magari In tutto Sto casino Siamo noi Quelli che Abbiamo Ricordiamoci Anche che E' esploso Un laboratorio Di sostanze Dalla dubbia Provenienza Sotto i nostri Piedi E quindi Può essere pure Che là I fumi Dell'esplosione Abbiano Intaccato Un attimino Le nostre Capacità Ti sei dimenticato La pezza Però Te lo dico Così secondo me Non funziona Sì Sì C'è gente Un po' Stata Comunque Comunque Da qua Se passa Penso di sì Sì Le cose Sono le stesse Eh Insomma C'è Allora Noi prima Poi ci eravamo Buttati Da qua Sì Da qua Siamo venuti Mi sa Ok Vabbè Stiamo abbastanza Imboscati Cioè siamo in un bunker Quindi In linea teorica Dovremmo star tranquilli Però Si può Attenzione alla testa Accendiamo la luce Allora Io devo consegnare Il pacco A Marcus Sì Eccolo qua Sì Ah ok Quindi dobbiamo mettere L'erba Negli essiccatori E poi Dobbiamo consegnare Devi fare una consegna A quei miei amici Di cui ho parlato Prima Sai Sì Là ci stanno Le consegne Ok Effetto alle consegne Previste Allora Aspetta Prima di tutto Dobbiamo mettere Tecnologia E conoscenza Vestiti Aslo Aspetta Prepara pacchi Troppe cose insieme Una cosa alla volta Allora Diario Abbiamo Alcuni negozi Ti permettono Negozi di articoli No Più che questo Mi dovresti Indizi sbloccati Catena di produzione Ah no Nel telefono Abbiamo le nostre missioni Allora Queste sono le vendite Che dobbiamo fare I primi giorni Storia principale Effetto alle consegne Raccoglie Ed essicca I fiori di cannabis Controlla il quadro elettrico Ah ok Controlla il quadro elettrico Poi Prepara pacchi Vestiti Vendi Lambra Ellen Ok Lambra Ellen Ci possiamo andare Vestiti Ci possiamo vestire Magari non veloce Come quello Non so Qui cosa abbiamo Ok Questo è il nostro Ah no Aspetta Scusa Noi siamo scesi da qua Noi stavamo sopra Magari Vediamo Grazie Michelon Grazie per i dodici Grazie mille Buon anno Buon anno Buon Prima candelina Buona prima candelina Questo è l'armadio Sì Ok Quindi ci possiamo vestire E grazie anche a Virilli Per i 31 Grazie Virilli Grazie mille Ah ok Quindi Eh beh ci mancherebbe Vabbè noi al momento Non è che abbiamo troppo Installando gli upgrade Negli slot speciali Di uno strumento Potrai convertirlo In una postazione Di lavoro dotata Di statistiche Caratteristiche diverse Gli upgrade possono essere Ottenuti a negozio Creati artigianalmente E Ne guarda roba Puoi cambiarti i vestiti Aggiungere la tua locazione Ok Ok Va bene Non ci interessa Ma già ce li abbiamo Quindi non è che abbiamo Altra roba Cioè pantaloni Ce abbiamo questi Pantofoli Ce abbiamo queste Che cazzo Non è che possiamo Fare altro L'obiettivo era Anche vestiti Ma Ah ce l'ha dato Però vestiti Semplicemente Credo che dobbiamo Andare al La Allora Vabbè comunque E Apri Allora Lo spazio Madonna che cazzo Di casino Ok 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 quindi Praticamente Lo spazio sotto mano Che è questo qua Che vede C'è scritto Spazio sotto mano Comunque Lo spazio All'interno Del Del bunkerone E quindi Possiamo usare Quello per Far cose Anche Varie Ed eventuali Legate Alla nostra Attività Spazio sotto mano Inventario speciale Per il nascondiglio Ok Poi In drive Potrai accedere Ad attrezzature Da laboratorio Di tipi Dimensioni E qualità Differenti Posare per realizzare Ed elaborare Vari tipi di strumenti E sostanze Da utilizzare Poi per creare I tuoi prodotti Ok Grazie Ertapin Grazie per i tre Grazie mille per la tripletta Allora Questi li chiudiamo Poi Spazio di produzione Penso che dobbiamo Prenderci questo No Pianta Pianta indica Fertilizzante Seme indica Acqua Ah ok Questi sono gli ingredienti Per farla Crescere E il prodotto finale È questo Quindi Spazio di produzione È questo qui Che è pieno Quindi io da qua Prendo questi Giusto Perfetto Dopodiché Sì infatti Ho tolto La pianta Essiccatore È questo Quindi da qua Ti metto Questa Dove lo metto Seleziona Risorsa Spazio Sotto mano Come lo metto Risorse della ricetta Ma la creo Direttamente O così Scusa Io ce ne ho 25 Di quella Per dire Anzi Facciamo così Per vedere se funziona Massimo 100 Ingredienti Fiori di canapa Indica Che ci abbiamo Cazzo ne so Fammi ne 25 Quelli ce ho Crea Ok Ci ha tolto quelli E Ah E sta essiccando Tra 12 minuti E 44 Dovrebbe essere pronta Ok Grazie ciobone Grazie per i 13 Grazie mille E Ok Ah infatti Ce l'ha messa Perfetto Lo facciamo anche Con questa Immagino Quindi prendiamo Questa La mettiamo qua Poi andiamo All'altro essiccatore Facciamo sempre qui 25 E vai Ok E l'ha tolta da qua E quindi stanno Ad essiccare Qui però Qualora io volessi Ripiantare Mi serve il seme L'acqua Che non abbiamo Ah no Ci mancano 100 millilitri di acqua Ne abbiamo 500 Questi sono 600 E Il seme ce l'abbiamo Ci manca pure il fertilizzante Quindi un'altra piante Non la possiamo fare Dobbiamo vedere Alla tipa se la vendeva Non mi ricordo Vabbè Comunque Indipendentemente da ciò Mentre aspettiamo Effettua le consegne E controlla il quadro elettrico Il quadro elettrico Che mi indica È questo Giusto E che cazzo Devo controllare Io scusa Non c'è Devo seguire Qualche cavo Devo Ah no Questo è il quadro elettrico Ok Pensavo fosse l'altro Ok Va bene Quindi anche il quadro elettrico È fatto E Vediamo Vabbè Le consegne previste Dobbiamo aspettare un attimino Perché 4 4 E 2 E dobbiamo aspettare Se è pronta 20 Però 3 Dovrebbe averle fatte No Ok Allora Io in realtà Qualcosina avevo provato Avevo visto Tieni Premo F Simentario Vassoio del laboratorio Ok Allora Ah Qui impacchettiamo cose O spacchettiamo cose Il tavolo degli unboxing Praticamente Ok Allora Nascondire un deposito di sostanze Che può essere ingrandito Vabbè Il deposito Rilascia gli oggetti Qui per spacchettarli Questo è il deposito Ah Il deposito Ci sta L'acqua E Cannabis indica Che è quella che se stessi C'ha immagino Eh Ai quali possono accedere Tutte le stanze Dal laboratorio Della scondiglio Ok Il vassoio del laboratorio Sul vassoio del laboratorio Potrai facilmente Spacchettare o confezionare Diverse sostanze E prodotti Questo è il luogo In cui puoi riporre Le sostanze confezionate Che ricevi O creare i tuoi pacchetti Per la distribuzione E il contrabbando Va bene Quindi Linea teorica Quindi è qua che dobbiamo fare cose Quindi Noi dovremmo Impacchettare Se c'è una sostanza Cannabis indica Peso Un grammo Quantità Uno Allora Noi facciamo Quattro Quattro e due Allora Mi fai Due da quattro Ok Non le ha fatte Immagino Perché sarà impallato Riproviamo Quattro Me ne fai due Ah ok Due per quattro Stanno qua Ah stanno in In fil Le risorse richieste Buste di plastica Che abbiamo E Quell'altro ne voleva Due Vabbè facciamo prima questi Impacchetta e porta Ah e ce l'abbiamo qua Nell'inventario No Nostro Nostro Grazie Sfrank Grazie per i due Grazie mille Grazie Grazie mille Ben ritrovato Grazie per i due Poi Sì infatti Non è proprio immediata Come cosa Mi pare un po' più complicato Del primo Quindi Quattro Quattro E l'altro due Sì Ok Voglio controllare Quindi me ne fai Un'altra da due Aggiungi E impacchetta Ok E quindi Andiamo a fare La consegna No Effetto Le consegne Tutto torna Qua Allora Ricordiamoci Che qua i semi Dobbiamo comprare L'acqua E il fertilizzante Oh Già che ci stiamo Signori Che fa Non ti rimetti A spippolare Grazie Crespologo Grazie per i 70 Grazie mille Oppela Non ha saltato Una sega Comunque Scusa Ma Ma noi rischiamo L'arresto O possiamo stare tranquilli Vorrei capire un attimo Questa cosa Cioè vedendo le persone Che vivono In queste Isole In linea teorica Potremmo stare pure tranquilli Fammi vedere qua Cioè Dai Non so quanto mercato ci sia Ma Vedendo appunto Le persone che vivono qua E come Allora Aspetta Voi siete Compratori Direi Dalle scarpe Direi di si Roberto Martinez Aspetta che se no Sbagliamo Roberto Martinez E quello che ne vuole due Roberto Come Lascia Lascia la merce Qui cazzo Stava scritto gigante Ok Confermo Ciao Con quale Transizione Acrobatica Viviana Lopez Viviana Lopez Anche lei Ah vi siete messi qua Proprio In amicizia No Prendine una Come cazzo Faccio a prenderne una Aspetta Una Ok See you later Spream Bellissima L'animazione Vale il prezzo Del biglietto Allora Aspetta che a questa Li dobbiamo vendere La Tieni premuto F Commercia Senti Io ti dovrei Vendere L'Ambra Ambra Ok Bravi tutti E posso acquistare Acqua Eh non c'è il fertilizzante Però Vedete Intanto Compriamo L'acqua Faccio Come cazzo La compro L'acqua Scusa Una cosa Più semplice No Si sta scritto Qua però Cazzo Ne compriamo Cinque Di acqua Mille e cin Sti cazzi Quanto costa Quanti soldi Ho io Tredicimila Mille e cinque Di acqua Guarda Facciamo una cosa Per il momento Facciamo che Va bene così Andiamo a vendere L'altro Che ci manca Qua Che dobbiamo consegnare A All'altro tipo Che si trova Scusa sulla mappa Ah ok Sta un po' più distante Andiamo andiamo Le prime consegne Signori Sono i primi lavoretti Sanzo Ragazzi Questo proprio Sulla spiaggia Sta aspettando Ciao caro Juan Torres All right All right All right To biondo A posto Pamma Ah ok E' a tempo Giustamente Ah ok Quindi scegliamo noi L'orario delle consegne Va bene I clienti abituali Ti invieranno i loro ordini Via sms Tieni premuto tab Per aprire il telefono E leggere i loro messaggi Non aspettare troppo Prima di rispondere Agli ordini Dei clienti Ok Adesso L'obiettivo Vediamo anche prima Gli obiettivi Coltiva Più marijuana E vestiti Un'altra volta E vabbè Incontra Lanzo Nel suo ufficio Ufficio di Lanzo Qua Porco due Eeeh Si Però Andiamo da Lanzo Capiamo un attimino Come funziona Bu Ma ci spostiamo Scusi Come funziona Paga tariffa Traghetto E per forza Mi sa Il traghetto è da questa parte Vai dal traghettatore Ok Ah per farlo Riveni qua Giovane Me devi portare Ah a posto Grazie Grazie Giolanda Grazie per il prime Grazie mille Per questo primo mese Benvenuto Benvenuta Tra gli sportive Fammi sap Se è un benvenuto Un benvenuta Grazie mille Grazie mille Giolanda O magari Iolanda Magari Perché poi Io A primo impatto Leggo un attimo A cazzo di cane Poi Poi rifletto Ho detto aspetto Magari No eh Per dire Per dire Immagino Siamo Iolanda E Allora Dobbiamo andare Dal tipo Lì sopra Immagino che anche In quest'altra parte Della Dell'isola Ci siano soggetti Un po' particolari Eh Però suonava anche bene Allora C'è anche Qui un emporio Attenzione Andiamo a parlare Prima con Il tipo Ciao Chissà Salutarsi Eh pure qua C'è mercato Eh pure qua C'è mercato Credo che Pure qua Ci sia un discreto Mercato Allora Dove cazzo Posso tagliare Per le frasche Scusate Qua dentro Qua dentro Sì eh Come detti Io parto Con le Perdonami Parto con le Con le letture Poi 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 penso Effettivamente Che potrebbe esserci Un problema Di pronuncia Sapete ormai Chi mi segue Che i nomi Vengono puntualmente Un attimino Storpiati Poi Allora Per creare Comunque Benvenuta Grazie mille Ok Vabbè Quello che ci esparge Un attimo Una voce Vabbè Comandano loro Ok Allora Per creare Domanda E ottenere Più clienti Dovrai Rivolgerti A personaggi Influenti Come Lanzo Ti aiuteranno Ad espanderti Ad acquisire Nuovi contatti Ma si terranno Anche una percentuale Dei tuoi guadagni E va così Va così Salve Carissimo Che sta a fare Sta a leggere Il giornale Che si dice Al giornale Oggi Comunque Vediamo Suo amico Di Marcus M'ha mandato Lui Ok Trattiamo Eh si La percentuale Quanto sarebbe Per sapere Allora Allora Aspetta Quindi Io la Oddio Se la devo portare A lui Direttamente Il 15% Sulle vendite Che avvengono Nel mio territorio Se collaboreremo A lungo Potremmo provare A negoziare Va bene Cosa pure Il letto Ma non abituarti Troppo A tutte queste Gentilezze Ok Allora Aspetta Piano piano Cosa alla volta Che è un cazzo di casino Arcipelago Bilancio attuale La tua offerta Pacchi consegnati Domanda in città C'è Domanda di Anfetamina E di marijuana 1900 grammi Credo che ieri Dobbiamo portare E poi Vabbè Intanto grazie Quando interagisci Con città e villaggi Devi tenere sempre D'occhio La tua reputazione La reputazione Incide sui vari Aspetti del gioco Adesso dipende Quanto sarà Diffico Lavorare Su determinata Ok 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 Addirittura Quanta roba dobbiamo Un cattiverio Ok Grazie capo nerd Grazie per i 38 Grazie mille Grazie mille E Quando finisce La giornata lavorativa È tempo di Preparare Preparativi La notte È il momento ideale Per organizzare Le scorte E produrre altra droga Per il giorno successivo Di notte È molto più facile Saccheggiare E contrabbandare Se hai bisogno Di fare qualcosa Di losco Dopo che è finito Puoi andare A dormire Sì però Questa cosa Dei My font Non li controllano Ci sono tanti Di quei giochi Che fanno Sti cazzo Sti cazzo Di scritte Per Per le aquile Praticamente Ok Allora Beh però È un postaccio Però comunque Ci stanno Li sordi Scrivania Del boss Allora Un momento Perché Per quanto riguarda Ascolta il messaggio Registrato Trova clienti Occasionali Guadagna La fiducia Di lanzo Crea Un'offerta Nell'arcipelago Coltiva Più Vabbè c'è rimane Sempre sta cosa Sentiamo i messaggi Di Marcus Ok man You gotta get to that guy Who knows a guy Who can help you Get us a normal crib I know I know A lot of guys Involved So in the meantime Pick up the engine From repair So you can use our boat Take some cash with you Also I'll need 50k For those lab repairs Madonna Oddio 50k Però qua parliamo di moneta Non so dove siamo Però calcolate che Già ce n'abbiamo 13.000 Quindi Ok Cioè ok Per modo di dire Va bene Va bene Come Scusi E l'ho ascoltato Il messaggio Però Ok Ho bloccato tutto E E Allora aspetta un attimo Perché qua Dobbiamo un attimino Fare un po' di cose Ah vedi Prova clienti occasionali Recupera il motore Riparato del motoscafo Ottieni informazioni Sui nascondilli disponibili E poi raccogli denaro Per riparare il laboratorio Dobbiamo fare una marea di cose Dobbiamo fare una marea di cose No no Ancora non è uscito il gioco Ancora no Ma possiamo iniziare a fare anche di notte Tanto comunque che ci frega No Tu dici Non vediamo un cazzo Potrebbe essere un problema Però Visto che di notte Non ci chiamano per degli ordini Possiamo approfittare per Scusa Passo qua Non si sa mai Per fare Le nostre cose Tipo Dobbiamo andare a parlare con il botanico Avviamoci no Andiamo a parlare con il botanico Che si trova all'infondo Anche perchè dal botanico Magari C'ha Un po' di Robetta Che ci può Essere utile Per Ah però Vi ha scoperto Un punto di viaggio Ah vedi Le fermate degli Ecco perchè c'era Si vendevano i biglietti Dell'autobus Perchè sono punti di teletrasporto Hai visto Hai visto quindi Beh Conviene sbloccarli E conviene a viaggiare di giorno Magari che vedevamo Qualcosa Vabbè Tanto il botanico Non dorme mai no Spero non ci siano bestie pericolose Qui intorno Si può? E' questa la Il botanico? Penso di si Salve Mi ha mandato Marcus Ah Ok Effettivamente siete uguali Ciao Ciao caro E Salve Sempre Marcus Mi ha mandato Quello di prima Vedi attrezzatura Da laboratorio E si dà il caso Che sia proprio Laggiù Ah quindi Posso coltivare Anche da lui Ah Ok Ok Che potrebbe essere utile Come cosa Almeno facciamo un po' qua Un po' là E poi vendiamo Import export Eh E Bonsoir Bonsoir Va bene Grazie Quindi Una domanda Ah la scelta di Ok È tutto Vorrei comprare qualcosa Allora Lui vende Elementi idroponici Vaso per fiori Che però Dove lo metto? Fertilizzante Ok Allora il fertilizzante Lo acquistiamo Eh no Dammi tutto Quello che c'hai Quanto costa? 3.500 Noi avevamo sempre 20.000 Ok Poi Vabbè Cartine Non Sono necessarie Pipa di vetro Neanche Busti plastica Ce l'abbiamo Un vaso Ce può servire Che cazzo Ne so I semi ce ne abbiamo Ah cazzo Li abbiamo lasciati Però i semi Lampado V grande Eh niente Mi sa che per il momento Dobbiamo prendere Solo il fertilizzante Possiamo Prendere Solo il fertilizzante Anche perché I semi Giustamente Li abbiamo lasciati A casa Allora Vabbè Prendiamo il fertilizzante Poi capiamo Ad esempio Qua se io voglio Coltivare qualcosa Che mi hai detto Che posso coltivare Anche da te Devo comprare i vasi E metterli qua sotto Immagino No Penso che mi faccia Coltivare qua Cioè mi ha dato Lo spazio Qua sotto Credo Però Non mi sopportato Altre robe Ne acqua Ne niente Quindi Dobbiamo Aspettare Vabbè Il motore Costa 30.000 Lavora per acquisire L'attrezzatore Di laboratorio Migliori Crea l'offerta Va bene Eh insomma Però ce n'è Di cose da fare Facciamo che Cosa c'è qua vicino Poi Vabbè Il motore Non possiamo Perché costa Un bel po' Fai un giro Per l'arciperio Che trova alcuni Clienti occasionali Per effettuare Vendite aggiuntive Aumentare la domanda Possiamo provare Questo Per quanto Aspetta che era Magari se c'è Qualche altra Fermata Dell'autobus Ne approfittiamo Anche se non abbiamo I biglietti Poi dobbiamo Comprarli Grazie Arcangelo Grazie per i 39 Grazie mille Grazie per La resab Va bene Allora Signori Grazie Grazie mille Andiamo Questo che vende Hai scoperto Il meccanico Salve Vorrei comprare Qualcosa Parti metalliche Benzina Cassetta degli attrezzi Portachiavi Piede di porco Piccola torcia Un'automobile E la vespetta Bellissimo Però non abbiamo soldi Costano un po' troppo Vabbè Per il momento Niente Poi torniamo a comprare Veicoli Quindi vende No Questa la dobbiamo comprare E poi vendeva la macchina Anche perché la zona È abbastanza grande Anche se poi No però si può andare Pure con la La chiatta Da una parte all'altra Quindi si potrebbe Anche fare Grazie Grinch Grazie per il Prime Benvenuto Benvenuto tra gli sportiveggianti Spero primo mese di tanti Mi accompagnia Grazie mille Ok 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 Ah ok Quindi c'è C'è Pestano Ai posti di blocco Che sarebbe Questo Non c'è Sta nessuno Però va bene Alcuni Teppisti e gang locali Creano dei blocchi Sulle strade Più importanti Al confine Tra territori Ricorda Viaggiare via terra Per aree esplorate Può essere rischioso E Vabbè ma io dovevo andare La missions Che in realtà Non so se è proprio Una missione qua Nello specifico O questo Ci indica Tutta questa No In realtà ci indica Tutta questa zona Coglione io C'è sta l'area No più che altro Voglio fare un giro Eventualmente qua Eh no Però comunque Si va sull'altra isola Voglio sbloccare Un po' di Di teletrasporti Perché Magari lo facciamo adesso E lo facciamo dopo No Tanto attenzione Alla gente Che piazza Ai posti di blocco Comunque che magari Cecorcano pure De botte Si potrebbe Andare anche Dall'altro lato Anche se Poi 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 Facciamo una cosa Andiamo a vedere Prima questo qua Che vende Anche perché noi Il fertilizzante L'abbiamo preso Conviene che iniziamo A macinare Un po' di soldi Signori Se no qua Salve Qua c'è gente Che saluta In giro Ok Salve Allora Che vendi Allora Pure lui Vende l'acqua Zaino piccolo Ce l'abbiamo Barretta di cioccolato Contante Ah In banconote Di grosso taglio Noi abbiamo Quelli da piccolo Taglio Ok Quindi occupa Meno Spazio Giustamente E dei biglietti Dell'autobus Che costano pure poco Allora Fa una cosa Dammi la Scusate L'acqua Quell'altra Non costava meno Però era Mezzo litro Mi sa Quella da mezzo litro Costa 300 Quella da un litro Costa 500 Prendiamo Un Cinque litri Calcolate che ogni vaso Ce ne andavano 600 Per il momento Com'è aceto Aspetta Fermi tutti Fermi tutti Aceto Aceto Che cazzo Lascia perde Lascia perde Leva l'aceto Leva l'aceto Leva tutto però Scusate Stavamo Per fare il danno Poi mettevamo L'aceto Nelle piante Però Li fa bene Magari Lo sbiondisce Un pochino E Vabbè Abbiamo Un Cinque bottilline Qua L'aceto L'aceto Signore Che me Che me L'aceto Che cazzo Damo se va Prima che qua Mi sce male Ritorniamo Pian pianino Giù Salve Salve Scusa Voi fate così Per Ah potenziale Cliente Eh no Ma io me devo Portare la roba Se no Che cazzo Penso che gli dobbiamo Dare un assaggino No Sì Penso di sì Allora Segniamo pure Questo viaggio rapido Adesso ce ne torniamo La nostra isola E proviamo A Ricoltivare un po' Oppure facciamo un po' De bustine Un po' De roba Andiamo Biondo Eh lo so Ma che dobbiamo fare Vabbè soldi per il momento Un pochino ce li abbiamo Però Eh vabbè però Immagino che così Facciamo comunque Prima eh Rispetto a passare qua No Più che altro Perché Al momento Già stavamo Belli piazzati Quindi ci facciamo Anche un'esplorazione Di questa Allora Eh in linea teorica Essendo note Non dovrebbero Esserci clienti Andiamo a Ehm Al negozio Al negozio In realtà Possiamo tornare Direttamente Alla nostra Casupola Però Se non ci incastriamo Nel Nei vari baracchini Prepariamo qualcosa E poi facciamo pure Qualche consegna A sto punto Forse converrebbe fare Quelli da Da un grammo In modo tale Da Fare gli standard E poi pian pianino Li consegniamo Chi ne vuole 4 Chi ne vuole 4 Eccetera eccetera Invece di fare i pacchetti Predefiniti Che poi Potrebbero Occupare un più spazio Perché giustamente Fai uno da Tot Rimane Nello slottino Poi ci serve Lo zaino Più grande Insomma Dobbiamo fare Un po' di robe Un po' di robe Piano piano De pazienza Mettiamo un attimino Modalità Cos'è sta È quella che riflette qua Mi sembra eccessiva Come cosa No Penso di sì Mi sono perso Scusa Prima come cazzo Siamo saliti qua Cristo santo Vai Insomma Aspetta che abbiamo Delle problematiche Anche di Di deambulazione Apparentemente Fa finta di fare Un po' di parkour Ma poi in realtà Non lo fa Allora Grazie Toro Iota Grazie per i 38 Grazie mille Allora qua Se è essiccato tutto Qua possiamo Eventualmente Fare Allora Gli ingredienti Fertilizzante Un chilo Ce ne vuole Interessante Te lo metto qua Quindi in linea teorica Dovresti averlo Acqua Te la metto qua Sezione risorsa Spazio sottomano Non hai abbastanza ingredienti Mi dice Spazio di produzione Qua è dove viene prodotta Questo è lo spazio Prendeva le cose da sottomano Se non sbaglio No Questa ricetta Prende gli ingredienti Dal deposito Delle sostanze Seme di indica Fertilizzante Un chilo Ce l'abbiamo L'acqua Ce l'abbiamo Che manca Non è abbastanza ingredienti Che cazzo Scusa Ce l'abbiamo Gli ingredienti Mo secondo me Opzioni Conserva Apri Richieste di creazione Spezzatore Laboratorio Ovari Blocchi strade Ciclo Giorno Notte Spacchetta Il fertilizzante L'acqua Sul banco Addirittura Come spacchettiamo Mi sembra eccessivo Cioè Non gli va bene Ok Ce l'ha spacchettato Scusa Per sapere Vediamo Il fertilizzante Mi sa che è scomparso Malamente Lascio qui gli oggetti Per spacchettarli Deposito sostanze Deposito sostanze Piccola bottiglia Sì ho capito Sì ho capito E poi dove Allora acqua 5.8 kg 105 Fertilizzante 2 però Di là non me ne dà Metti in basso a destra Tra il deposito Le sostanze E Eh ma io da qua Questo non se le ripiglia Qua Ah no se le ripiglia Però perché me ne Giusto Sì Tra 16 minuti Ne facciamo un'altra qua Ah ci vuole un bel po' Di tempo Ok No no A posto A posto Abbiamo 150.000 Di contanti Ce li ha dati forse Per prendere il motore Proprio Beh a sto punto Ce li portiamo Dite che ce li fregano 165.000 Abbiamo 2 kg Di peso Però Però Anzi facciamo una cosa Scusa possiamo tipo Dividerli Aspetta Facciamo una cosa Prima Siccome andiamo a fare Un po' di giretti Consegne varie Eventuali Aspettiamo Il letto ce l'abbiamo Qua sopra Quindi magari dormiamo Poi ci facciamo Qualche consegna Anche per Anche per No Ok Grazie Zalk Grazie per i 53 Grazie mille Facciamoci un po' Di dormita E poi ci Riprendiamo Dal lavoro Grazie Game Master Grazie per Gli 11 mesozi Bonsoir Bonsoir Ok 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 Grazie a tutti Grazie a tutti